Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, sono DJ Peck, bentornati sulla nuova puntata di Nuvolozzi, la rubrica dove parlo appunto di svapo. Video abbastanza veloce oggi, non ho molto da dire, se non che si sta avvicinando a grandi passi il Vapitali 2019 e dal lunedì 18 marzo sarà possibile registrarsi sul sito ufficiale di Vapitali per avere il proprio biglietto d'ingresso, ovviamente completamente gratuito, basta registrarsi, una volta effettuata la registrazione ti verrà spedito a casa l'ingresso appunto per poter accedere alla tre giorni veronese 18, 19, 20 maggio 2019, sabato e domenica aperta a tutti e al pubblico, lunedì solo un B2B nel senso riservata a distributori, produttori, commercianti e quant'altro. Tante novità anche quest'anno a Vapitali, si sta delineando il programma di partecipazioni, sembra un'altra edizione da record in quanto aziende, promotori e quant'altro, circa 100 oltre 100 spazi venduti, quindi tanta roba. All'interno di Vapitali come sempre ci saranno le varie manifestazioni, talk show, approfondimenti e quant'altro. E' importante, oltre alla Modder's Arena, che sono veramente curioso di vedere cosa verrà fatto, cosa verrà tirato fuori, un po' sulla falsa riga delle fiere internazionali, nel frattempo scusatemi, la mia pod è differente, ma soprattutto, oltre alla Modder's Arena, ci sarà anche la possibilità di poter firmare la petizione per far uscire il vaping dal TPD e avere una propria normativa, quindi in modo da far separare a livello europeo, non italiano, attenzione, europeo, il vaping dal tabacco, visto che tra l'altro in un sacco di paesi europei la sigaretta elettronica, anzi i vaporizzatori personali, vengono visti come un forte incentivo a smettere di fumare, a liberarsi dal tabagismo, quindi insomma ricordo che l'Italia la quota di firme necessarie è 55.000 circa, quindi speriamo, amici Vapers, che sarete al Vapitoli, mi auguro che sia un'edizione particolarmente numerosa, come quella di due anni fa, oltre alle 25.000 presenze, se firmiamo tutti i presenti a Verona per questa petizione, insomma un buon viatico, glielo diamo sicuramente. Niente, a Verona ci sarò anch'io e anche lo zio, probabilmente verrà presentato il liquido dello zio, non è ancora niente di certo, però qualcosina secondo me si sta muovendo. E a proposito di campagne antifumo, voglio segnalarvi la bella immagine che Laura D. ha creato per Ampv, l'associazione per i Vapers uniti, l'associazione di Vapers e per Vapers, quindi non di produttori, non di venditori, ma di consumatori finali. Se non l'avete fatto andate sul sito sotto in descrizione, se mi ricordo vi lascio il link, iscrivetevi, sono 5 euro l'anno, una sciocchezza, se ancora ce li hanno, non so perché se non andate a ruba, essendo buonissimi, dovrebbero esserci ancora alcuni aromi omaggio fatti appositamente per Ampv, da alcuni grossi produttori, vedi tabaccheria, vedi shaken vapor, vedi insomma, ce ne sono Dreamots, mi pare, ce ne sono tanti, aderite a questa associazione perché è importante, è importante anche, dicevo, l'immagine, la trovate un po' su tutti i vari gruppi Facebook, perché il buon Carmine Canino la sta giustamente spammando, fidati di me, non bruciarti la vita, quindi un invito ad usare sigarette elettroniche, vaporizzatori personali, piuttosto che le catramose. Quindi, messaggio molto molto importante, immagine molto bella, devo dire, realizzata da Laura D. Niente ragazzi, quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto, ripeto, video molto molto veloce, quest'oggi, da lunedì 18 sono aperte le iscrizioni per poter prenotare il proprio biglietto d'ingresso gratuito, ovviamente l'ingresso è riservato ai maggiorenni, quindi chi ha meno di 18 anni mi dispiace, non potrà partecipare, è importante, però d'altronde le normative, questo dicono, è giusto così. Dicevo, da lunedì 18 marzo, tutti sul sito del Vapitali, prenotate il vostro biglietto gratuito e ci vediamo indubbiamente a Verona. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, spuntate la campanellina per essere aggiornati ogni qual volta esce un nuovo video, iscriviti, condividi, spam, dammi una mano a crescere con questo mio piccolo canale. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!